Partiti, rifiuta la partenza Amarantus e in vantaggio Dancer of Dubai davanti ad Abbelli Petit Portrait, fuori luogo e My Impression. Dopo 200 metri di corsa il vantaggio Dancer of Dubai davanti a Abbelli Petit Portrait, fuori luogo e My Impression. All'inizio della curva è sempre il vantaggio Dancer of Dubai davanti ad Abbelli, fuori luogo Petit Portrait e My Impression. Poco prima dell'ingresso in dirittura prosegue in vantaggio Dancer of Dubai davanti a Abbelli, fuori luogo e Petit Portrait. I cavalli entrano in dirittura con Dancer of Dubai in leggero vantaggio lungo la corda davanti ad Abbelli a centropista fuori luogo, seguono Petit Portrait e My Impression. Passa a Abbelli Abbelli davanti a Dancer of Dubai, fuori luogo Petit Portrait in vantaggio a Abbelli Abbelli davanti a Dancer of Dubai, Petit Portrait e fuori luogo. È facile a Abbelli Abbelli davanti a Dancer of Dubai e Petit Portrait. Abbelli davanti a Dancer of Dubai e Petit Portrait in vantaggio a Abbelli. Abbelli davanti a Dancer of Dubai e Petit Portrait in vantaggio a Abbelli. Abbelli davanti a Dancer of Dubai e Petit Portrait in vantaggio a Abbelli. Abbelli davanti a Dancer of Dubai e Petit Portrait in vantaggio a Abbelli. Abbelli davanti a Dancer of Dubai e Petit Portrait in vantaggio a Abbelli. Abbelli davanti a Dancer of Dubai e Petit Portrait in vantaggio a Abbelli. Abbelli davanti a Dancer of Dubai e Petit Portrait in vantaggio a Abbelli. Abbelli davanti a Dancer of Dubai e Petit Portrait in vantaggio a Abbelli. Abbelli davanti a Dancer of Dubai e Petit Portrait in vantaggio a Abbelli. Grazie. Grazie.